Presso la sala conferenze della BCC di Napoli, il presidente Amedeo Manzo ha ospitato una delegazione di studenti dell'Associazione Volontarie Tremosine, selezionata dalla BCC del Garda, a conclusione di una tre giorni di scambi culturali che hanno consentito agli studenti di incontrare importanti realtà associative partenopee. La delegazione, accompagnata dal consigliere d'amministrazione del BCC Garda, Graziano Pedercini, ha incontrato l'Associazione Maestri di Strada con Cesare Moreno, lo scrittore Davide Cerulo a Scampia, una visita alla fattoria didattica e al campo Rom con frate Enrico Müller e si è recata presso la casa Arcobaleno e ha compiuto una visita al quartiere di Scampia. Un'importante occasione di confronto sui temi della legalità e della solidarietà, del volontariato e della responsabilità, così il presidente della BCC Napoli Amedeo Manzo. Questa iniziativa si innesta in un'iniziativa ancora più grande che porteremo poi avanti anche con altre BCC Lombarde, il viaggio che faremo con la Federazione Lombarda in Terra Santa in un'ulteriore testimonianza di raccordo, di semplificazione dei rapporti, di conoscenza, di cultura, perché soltanto lavorando sulle nuove generazioni e dando quella democrazia di opportunità che serve possiamo fare in modo che il nostro Paese possa andare avanti. Quella con la Banca Partenopea è una collaborazione che ha radici ormai solide, fin dalla sua Costituzione, ha dichiarato Graziano Pedercini, consigliere d'amministrazione della BCC del Garda. Sono ragazzi tutte dalle scuole superiori, quindi dai 15 anni ai 17-18 e sicuramente appunto sono ragazzi che frequentano liceo, scuole ragioneria o scuole comunque professionali e sicuramente appunto queste esperienze saranno utili anche per il loro percorso di studi.